Come stai? Stavo pensando proprio a te, lo sai? Che strano proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così, quasi non mi sembra vero, forse sto sognando eppure no, sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu. Come stai? Dall'ora di me mi hai pensato mai, io ti ho pensato sì, io ti ho rimpianto sì, fatti guardare, non sei cambiato, come stai? Come stai? Amore mio, che gioia che mi dai! Dal giorno che finì, ho un grande gelo qui, che si scioglie così. No, non è successo niente, questo tempo non c'è stato, ti amo come prima, forse di più, forse di più, come stai? Sei dolce, 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 più che mai, è dolce il tuo dolore, meraviglioso amore, che non vuole morire. Piccola, piccola storia, chiusa nel tuo cuore, e non pretendo che tu, già mi chiami amore, ma so che il tuo sorriso, va in cerca del mio viso, e gira, 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 intorno a me. Piccola, piccolato, chiusa il pensiero, che mi trascina con te, per il mondo intero. E volo, 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 bello, 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 e vi faccio il primo progetto del nostro ingegner, Fabio Paglioni. Fabio Paglioni è il primo ingegner che funziona per Ducati. Il nome di questa bicicletta, Mariana, viene da una bicicletta di una bicicletta per una bicicletta per lungo, per rari, per esempio, rari da Nord Italia a Sud Italia in 1000 km. Se la bicicletta si è rara, i piloti devono ripartirla da loro, quindi li metano i lavori insieme Grazie per la visione! 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 Marco Lucchinelli! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!